Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Utrend di oggi, venerdì 2 giugno 2023. Vediamo le intenzioni di voto politiche nazionali nella supermedia. Agi Utrend, Fratelli d'Italia, si attesta al 29%, senza variazioni, mentre il PD guadagna 1,02 ed arriva al 20,6%. Il Movimento 5 Stelle ha un calo dello 0,3 ed è al 15,7%. Leggera flessione della Lega a meno 0,2 ed è al 9. Forza Italia guadagna lo 0,1 ed è al 7,1. Azione perde lo 0,1 ed è al 4,1. E poi abbiamo Verdi Sinistra al 3,1%, Italia Viva 3%, più Europa 2,1%, Italexit 2,2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.